Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Mariangela Aiello che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Scina Costa. Buongiorno Preside, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno, buongiorno. La prima domanda è di rito, come va? Va piuttosto bene, nel senso che abbiamo finalmente ripreso le attività didattiche, ormai da giorno 24, quindi abbiamo rotto il ghiaccio, siamo ormai pienamente operativi, anche se ogni giorno, ovviamente dobbiamo fare un passo in avanti, però abbiamo ripreso e questo è l'aspetto più importante. Da voi fortunatamente non si sono registrati casi di coronavirus, perché abbiamo letto, sentito che in mille scuole italiane si sono verificati almeno un caso, si è verificato almeno un caso di Covid. Voi siete a posto da questo punto di vista? Da questo punto di vista ancora non abbiamo casi accertati, abbiamo preceduto già ad una sanificazione proprio ieri di un plesso a causa di una sintomatologia che è stata a noi comunicata dalla famiglia di un alunno a casa, di sintomatologia a casa. Quindi abbiamo già, come dire, ci siamo già affacciati a questo, i problemi che questo anno ci porrà. Ancora non abbiamo nessun caso accertato allo stato attuale. Fortunatamente. Dico, ma nel caso in cui si verificasse un caso del genere, qual è la strategia che intendete adottare? Sì, questo è un ragionamento su cui ovviamente già ci siamo soffermati, siamo pronti come noi diciamo proprio al piano B, cioè al piano B che è l'eventualità di un isolamento di qualche classe. Quindi già abbiamo proceduto all'approvazione di un piano nostro, piano per la didattica digitale integrata. Quindi in questo caso, nell'ipotesi in cui si dovesse presentare il caso dell'isolamento di una classe o della quarantena di una classe, abbiamo già un po' le idee su come potremmo passare alla didattica a distanza. Un'esperienza che ormai abbiamo sperimentato bene l'anno scorso e cui siamo comunque pronti a ritornare nell'ipotesi in cui se ne dovesse presentare la necessità. Io dico, che cosa vi ha insegnato questa didattica a distanza? Perché non si finisce mai di apprendere, fortunatamente. Sì, sì. È stata un'esperienza veramente impegnativa per tutti i docenti, per tutta la comunità scolastica, per tutte le famiglie. Noi appunto a marzo, quando si sono interrotte le lezioni, abbiamo avuto, come dire, la possibilità già di attivare in tempi piuttosto rapidi una piattaforma su cui il nostro team digitale, in tempi non sospetti, aveva già iniziato a riflettere. Quindi come possibilità di integrazione, ovviamente, della didattica in presenza. Quindi questa possibilità di avere già riflettuto su un modello di comunicazione, uno strumento di comunicazione con gli alunni, un po' ci ha aiutato nell'iniziare questa esperienza, che poi si è regolarizzata nel corso del tempo, nel senso che si sono attivate proprio le attività sincroni, le video lezioni con gli alunni. È stata un'esperienza molto forte, anche dal punto di vista proprio emotivo. La distanza si è sentita, la distanza sia con i ragazzi, ovviamente innanzitutto con i bambini, con i ragazzi, ma sia, devo dire, anche all'interno di chi lavora nella scuola, proprio il fatto di stare a distanza. È stata un'esperienza in attesa, che forse però anche tutto sommato unito ancora di più, come accade nelle situazioni in cui si affrontano delle difficoltà, ha unito la comunità scolastica. È stata un'esperienza importante, infatti ci sono stati anche dei lavori che sono emersi da questa attività didattica, dei video, dei lavori che hanno sicuramente dimostrato già delle competenze digitali acquisite dagli alunni. Però ovviamente noi vogliamo rientrare in presenza, vogliamo ritornare a scuola e l'inizio quest'anno è stato davvero un momento emozionante, un momento atteso, denso di preoccupazioni, di apprezzioni, però volevamo ritornare ovviamente in presenza. Per una scuola come la vostra, per un istituto comprensivo, i problemi sono sicuramente maggiori rispetto ad un istituto superiore. Voi avete la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Quindi ritengo che lo sforzo è stato maggiore. Sì, sicuramente è stato uno sforzo professionale veramente eccezionale da parte di tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola. Ovviamente la modalità di contatto con gli alunni era diversa a seconda ovviamente dell'età dei nostri alunni. Anche alla scuola stessa, scuola dell'infanzia, siamo riusciti comunque a rimanere in contatto, a mantenere viva la relazione educativa con i bambini. Ritengo che sia stato molto difficile, ovviamente all'infanzia c'era forte il coinvolgimento da parte delle famiglie. Le famiglie erano ovviamente i protagonisti essenziali di questa relazione educativa delle docenti con i bambini. Però ovviamente con tutte le difficoltà che si sono rificate, direi che siamo riusciti a mantenere un certo contatto con i bambini. Ovviamente le cose diventavano più semplici negli altri ordini di scuola, la scuola primaria e la scuola secondaria. Ma ovviamente il coinvolgimento dei genitori è stato essenziale. La situazione attuale qual è? La situazione attuale ha visto una ripresa delle elezioni giorno 24. Noi avevamo due plessi che erano sede elettorale e la sede centrale invece non è sede elettorale, però abbiamo convenuto con il Consiglio d'Istituto di comunque rinviare al 24 l'inizio delle elezioni. Abbiamo preceduto l'inizio delle elezioni, abbiamo fatto precedere da incontri sempre in videoconferenza con i genitori in cui abbiamo cercato di dare tutte le spiegazioni su tutto il lavoro che era stato svolto nel periodo estivo per la preparazione della scuola al rientro dei nostri alunni. Quindi il 24 abbiamo ripreso, abbiamo ripreso gradualmente in tutti e tre i plessi con un orario inizialmente ridotto di tre ore e già da ieri abbiamo aumentato di un'ora perché chiaramente abbiamo voluto sperimentare un po' il funzionamento di quello che avevamo programmato per il rispetto delle misure di sicurezza, quindi gli ingressi a scuola, tutto ciò che abbiamo preparato per assicurare l'igiene degli ambienti, il distanziamento. Ci sono alcune scuole che sono ancora a tempo ridotto, cioè alcune scuole fanno ancora due ore, altre già hanno l'orario completo. Perché questa differenza di organizzazione? Allora io penso, riferendomi appunto alla nostra realtà scolastica, che tutto dipende proprio dal voler garantire comunque la massima sicurezza degli ambienti scolastici, quindi proprio dalle specificità dei plessi scolastici. Nel nostro caso appunto abbiamo voluto iniziare con una certa cautela, quindi con un orario provvisorio di tre ore, proprio per capire se i tempi che avevamo previsto per gli ingressi dei ragazzi, i ragazzi entrano in fila e i ragazzi e i bambini nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, entrano in fila distanziandosi, misurando la distanza con le braccia, poi si fermano, si igienizzano le mani. Quindi avevamo bisogno di capire se i tempi che avevamo previsto sulla carta funzionavano per rispettare il distanziamento e per dare soprattutto una garanzia alle famiglie sulla massima accortezza che la scuola deve porre in essere. Noi abbiamo una grandissima responsabilità di riaprire la scuola e quindi di dare delle garanzie di sicurezza dell'ambiente scolastico alle famiglie. Io sono d'accordo, appunto io non conto il fatto che già sia a pieno regime, quando sia in questa fase così difficile ancora insomma c'è tutto da chiarire. Per quanto riguarda i locali, voi avete cinque plessi? No, ne abbiamo tre, tre plessi. Tre plessi, però cinque tipi di scuola. Sì, abbiamo la sede centrale che è il plesso Domenico Scina, che è una scuola che ha una lunga tradizione nel territorio, è sede della scuola media statale, una scuola molto antica e infatti spesso mi capita di parlare con genitori che sono stati proprio alunni della scuola e quindi questo è molto bello perché veramente c'è un senso proprio di appartenenza. Quindi nella scuola secondaria che si trova nel plesso Scina abbiamo dei locali che non hanno posto particolari problemi, cioè hanno richiesto soltanto degli interventi di edilizia leggera per riuscire a ricavare delle aule un po' più ampie e cercare di evitare il più possibile lo sdoppiamento delle classi, in modo tale ovviamente da consentire il rispetto del distanziamento. Quindi il plesso Scina è stato ovviamente utilizzato per intero, nel senso che abbiamo utilizzato tutti gli spazi possibili, abbiamo utilizzato l'aula che di solito noi utilizziamo, l'aula magna, l'aula teatro che si chiama aula Falcone, l'abbiamo utilizzata per poter accogliere una delle classi più numerose che abbiamo, abbiamo utilizzato lo spazio della biblioteca, quindi abbiamo utilizzato tutti gli spazi che erano disponibili, sacrificando ovviamente qualche laboratorio, poi vedremo come potremo fare perché noi appunto abbiamo lavorato in questi anni molto per cercare di allestire dei laboratori per l'innovazione e la didattica, ma chiaramente abbiamo per il momento altre priorità. Poi abbiamo il plesso Costa, plesso Gaetano Costa che è alle spalle, possiamo dire, del plesso della sede centrale e lì la popolazione scolastica è piuttosto numerosa, quindi abbiamo anche lì dovuto ricorrere a degli interventi di edilizia, quindi abbattere, abbiamo chiesto l'autorizzazione, abbiamo comunicato al comune che avremmo abbattuto dei tramezzi per anche in questo caso, ampliare le aule e abbiamo svuotato un archivio, un'aula che avevamo disponibile, quindi con la collaborazione dell'edilizia scolastica del comune, abbiamo ricavato così uno spazio per un'altra sezione, un altro gruppo di alunni della scuola dell'infanzia. Al plesso Gioberti abbiamo, non abbiamo dovuto, diciamo, non abbiamo dovuto, abbiamo avuto la necessità di ricorrere a interventi di edilizia leggera, ma abbiamo anche qui utilizzato tutti gli spazi, quindi un'aula che utilizzavamo per un'attività ginnica, per un'aula che destinavamo alla mensa, anche queste sono aule utilizzate dai bambini, perché abbiamo lì creato altri due gruppi, due piccoli gruppi di alunni di scuola dell'infanzia. Non avete rinunciato al corso di educazione musicale? No, no, non abbiamo rinunciato assolutamente, infatti la scuola è da qualche anno proprio una scuola in indirizzo musicale ed è stato, come dire, un nostro sogno, un nostro progetto, quello di farla diventare scuola in indirizzo musicale, quindi questo è un progetto veramente molto importante per noi, perché crediamo veramente tantissimo nell'inclusione della musica, nella formazione dei nostri alunni e quindi le lezioni del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria continueranno, abbiamo ovviamente cercato di, questa volta abbiamo salvaguardato l'aula e quindi abbiamo un po' utilizzato anche altre aule che di mattina vengono usate per le lezioni appunto curriculari e le abbiamo usate per lo svolgimento delle lezioni di strumento. Anche noi iniziamo la musica sin dalla primaria perché abbiamo la possibilità di ricorrere ad alcune risorse di docenti che si dedicano all'insegnamento dello strumento, in particolare del pianoforte, sin dalla scuola primaria, quindi per noi questo è un punto di forza. Chiaramente la situazione attuale un po' ridimensiona un po' tutto, questo è certo. Toglietemi tutto in sostanza, ma non il corso di educazione musicale. No, no, ma noi vogliamo salvaguardare un po' tutto, perché vogliamo però farlo per piccoli passi, dobbiamo capire, ovviamente la priorità è quella di contenere al massimo il rischio del contagio all'interno della scuola, questa è la priorità di dare, come dicevo, garanzia di sicurezza all'interno dell'istituzione scolastica. Tutto questo può venire perché c'è stato questo impegno così forte da parte dei dirigenti scolastici e di tutti gli operatori della scuola, tant'è vero che io ho proposto, anche in altre tradizioni, di nominare il Cavaliere della Repubblica tutti i dirigenti scolastici, perché mi sembra che sia un merito da riconoscere. Abbiamo lavorato tutti, tutti i colleghi durante l'estate, però tutto il lavoro di organizzazione è frutto comunque di un lavoro di squadra, perché appunto se non fossimo stati affiancati da chi lavora nello staff di presidenza, da chi lavora nella segreteria, dal direttore dei servizi amministrativi, insomma sicuramente ben poco avremmo potuto fare, è stato un lavoro veramente di squadra che è durato tutta l'estate, ma ecco i dirigenti scolastici da soli ovviamente possono fare ben poco se non sono supportati da una squadra. Si chiedeva pure di costruire i banchi, si chiedeva anche di andare a comprare in Cina le mascherine, ecco facciamo un riassunto di tutto quello che ancora manca, che cosa vi manca ancora? Mancano i banchi sicuramente, non sono arrivati quasi in nessuna scuola. Sicuramente l'aspetto più critico è quello ancora del mancato arrivo dei banchi monoposto, delle sedute che noi abbiamo richiesto. Per il momento noi siamo in possesso di banchi b posto, abbiamo soltanto quelli all'interno della scuola, quindi per il momento abbiamo dovuto un po' sistemarli, cercare di studiare la sistemazione all'interno delle aule che ci consentisse di utilizzare questi banchi ma di ovviamente mantenere il distanziamento. Attualmente ci siamo riusciti in qualche modo, però ovviamente l'arrivo della fornitura dei banchi è veramente importante. Ma quando potrebbero arrivare questi banchi? In verità noi siamo stati contattati già telefonicamente un paio di settimane fa, quindi c'era un avvisato che presso la scuola primaria sarebbero arrivati questi banchi, poi in realtà però non abbiamo avuto più notizie di questa consegna, quindi manteniamo ancora la fiducia nel pronto arrivo di questi banchi. Abbiamo invece ricevuto la fornitura sia di mascherine con una frequenza piuttosto regolare sino ad ora e anche del gel igienizzante. Per quanto riguarda la collaborazione dei genitori, voi li avete sentiti continuamente, ma come si sono mostrati? Molto disponibili? Sì, io penso che questo sia veramente l'aspetto fondamentale per poter affrontare una situazione del genere, io sono qui già, questo è il mio sesto anno all'Istituto Scina Costa, quindi posso veramente dire che si tratta di una comunità in cui c'è una grande collaborazione da parte dei genitori che ovviamente hanno delle preoccupazioni e delle apprezzioni che noi comprendiamo, infatti abbiamo un po' riscontrato diversi atteggiamenti dei genitori, ovviamente ci sono genitori che sono stati molto in preoccupazione, per esempio abbiamo avuto dei genitori che ci hanno comunicato che inizialmente non ritenevano, pur avendo fiducia nella scuola, non si sentivano tranquilli nel fatto di far frequentare il proprio figlio, da lunedì già la situazione, per esempio mi riferisco in particolare ad una classe già è rientrata, ci sono grosse preoccupazioni, però c'è anche, e quindi sicuramente ci sono delle legittime richieste anche di ancora maggiori chiarimenti da parte della scuola circa le proprie scelte, noi cerchiamo sempre di tenere aperto un dialogo che attualmente può avvenire, avviene a distanza, avviene attraverso proprio comunicazioni telefoniche, quotidiane, abbiamo però veramente un grosso supporto anche, per esempio abbiamo avuto delle riunioni molto importanti con il consiglio di istituto, in cui c'è la componente genitori che ha dato veramente anche degli input, delle importanti per la nostra riflessione, abbiamo avuto per esempio la partecipazione dei nostri genitori alla conferenza di servizio che è stata organizzata dall'assessore Amarano e i nostri genitori hanno partecipato a questa conferenza, quindi dimostrando una particolare sensibilità anche uno spirito di collaborazione, c'è chi collabora proprio negli aspetti pratici, per esempio a volte nella stampa di qualcuno di questi moduli che i genitori hanno sottoscritto per l'inizio dell'anno scolastico come patto di corresponsabilità, quindi impegnandosi comunque a rilevare la temperatura e a quegli altri obblighi che ci sono stati indicati proprio nel commento. Cosa avete pensato di fare? Sì, quello è un argomento veramente molto delicato e abbiamo un gruppo di docenti che sta cercando di analizzare proprio caso per caso per sviluppare proprio un patto di corresponsabilità proprio adattato ad ogni singola esigenza. Noi abbiamo adesso tutto l'organico al completo dei docenti di sostegno, quindi già abbiamo iniziato ad avviare le attività di supporto, di sostegno con gli alunni con disabilità. Adesso stiamo cercando di integrare pure l'attività degli assistenti alla comunicazione perché effettivamente ci sono a volte dei problemi proprio logistici perché dobbiamo garantire il distanziamento e quindi dobbiamo cercare di elaborare un progetto che comprenda anche questo supporto senza ovviamente privare l'alunno di questa risorsa. Non è semplice. Per quanto riguarda i lavoratori fragili, voi ne avete nell'istituto? Sì, anche questo è uno, io direi, forse degli aspetti più delicati da affrontare. Sì, anche nel nostro istituto sono cominciati ad emergere dei casi di fragilità sia tra gli operatori scolastici ma anche degli alunni, è segnalata appunto dalle famiglie degli alunni. Ovviamente abbiamo intensificato i rapporti di collaborazione col medico competente che ci suggerisce di volta in volta come operare. Ma è un tema che ancora merita sicuramente altri approfondimenti. Per quanto riguarda i test sierologici del personale sono stati effettuati da parte di tutti oppure insomma in che percentuale? Sì, una buona parte del personale scolastico ha ritenuto di sottoporsi ai test sierologici. Ognuno individualmente, autonomamente, ma una buona parte si è sottoposto al test. Penso che sia stata una grande percentuale, pur non essendo obbligatorio questo test, comunque molti hanno ritenuto di sottoporsi al test. La vostra scuola sorge in un quartiere popolare. Come reagisce il quartiere rispetto a questa situazione? Sì, da quelle che sono state le nostre prime impressioni, perché appunto abbiamo iniziato da poco, il quartiere penso che abbia intanto apprezzato comunque la possibilità del rientro dei bambini a scuola. Quindi abbiamo avuto anche all'inizio, ovviamente ci sono stati dei, come dire, dei cosiddetti assembramenti fuori dalla scuola, perché magari non si era ancora presa dimestichezza con le misure definite dalla scuola per l'ingresso, ma adesso veramente io sono qui principalmente alla sede centrale, vedo che i genitori veramente collaborano, non si sono più avuti dei problemi all'ingresso, anche all'uscita, ci si è resi conto, penso, di quello che la scuola ha durante questo periodo cercato di fare per mettere in sicurezza la scuola. Io penso che sia importante sempre il dialogo, perché le apprezzioni ci sono, quindi chiaramente per quanto la nostra attività possa essere veramente intensa, per quanto noi possiamo pensare a tutto, magari poi ci sfugge qualcosa e quindi magari il dialogo con i genitori è importante per un po' aggiustare il tiro. Chiaramente siamo all'inizio e quindi noi veramente ci auguriamo di poter continuare, ecco, come abbiamo iniziato. I problemi ci saranno, quindi però li affronteremo come sempre, come sempre facciamo in tutte le scuole e io penso che sia importante anche appunto un supporto, anche trasmissioni come queste che danno veramente voce a quello che avviene all'interno delle scuole e che dimostrano veramente un interesse autentico nei confronti di chi lavora all'interno delle scuole, siano importanti. Per rassicurare soprattutto le famiglie, perché io di fatto ho voluto fare parlare i dirigenti scolastici proprio per far capire alle famiglie che i luoghi più sicuri sono le scuole, perché ci sono gli insegnanti, tutti gli operatori che stanno attenti ai ragazzi e ai ragazzi gli fanno seguire tutte le prescrizioni per evitare appunto i contagi. sicuramente. Quindi allora ci fermiamo, grazie, grazie auguri. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.